Buonasera a tutti carissimi amici e amiche delle pagine Facebook, della Regina della Pace, dell'Associazione Sacro Cuore di Gesù, delle mie pagine personali e di tutte le pagine che condivideranno questa diretta. Riprendiamo queste catechesi sul testo Contro Satana, che è un'intervista fatta a padre Matteo Lagrua, questo grande carismatico, un mistico, un taumaturgo che riusciva a guarire tantissime malattie con il comando e anche... Dicevo non soltanto un grande taumaturgo ma anche un grande esorcista che ha liberato persino una persona, Francesco Vajasuso, da 27 legioni di demoni. Ecco, questa sera vedremo anche il video iniziale dove padre Matteo racconta la guarigione di un paralitico e poi ascolteremo anche il canto degli angeli. Gli angeli che per due volte e forse anche più durante due sante messe intervengono per dare gloria a Gesù nel Santissimo Sacramento. Ecco, allora saluto tutti voi che siete qui in diretta. Quindi Silvana Bizzari, Raffaella Paris, Dani Bielli, Elisabetta Sicora, Carla Parisi, Demetrio, Amalia Ripici, Alessio Baldoni, Anastasia Guarino, Franca Mi, Antonia Balistreri, Alessia Gian Felice, Loredana Sol, Daniela Montalbano, Giovanna Chiapparino, Monica Adani, Gregorio Lagrotteria, Caterina Pietro, Patrizia Migliani, Valentina Paolillo, Corrado Occhi, Gianna Urbani, Clara Sheril, Lucia Biscotti, Antonella Eppino Timpano, Nella Sestito, Anna Chiapparino, Loredana Sol, Rosa De Rosa, Marco Carniato, Pellegrino Pietro Vincenzo, Loredana Serra, Lucia Filippini, Stella Maris, Elena Amodio, Sara Baldo, Stella Marina Cantarella, Anna Cicatelli, Caterina Francone, Aurora Di Palma, Giussi Marinelli, Elena Bella, Filippa Carollo, Lucia Bucano, Elena Amodio, Paola Moriconi, Nadia Leone Arcadi, Nora Falcone, Maria Carmela Granatiero, ecco vi chiedo di non essere troppo prolifici dei messaggi, sempre le stesse persone perché sennò non riesco a salutare tutti gli amici. Bene, allora andiamo avanti con questa diretta e vediamo questo video dove c'è qualche scena anche in cui padre Matteo racconta il miracolo di una persona paralizzata. Questo video è tratto dalla trasmissione Viaggio A di Paolo Brossio. Queste immagini furono girate proprio durante quell'incontro. Padre Matteo era già molto anziano ma ricordava ancora con semplicità i miracoli che sarebbero accaduti attraverso di lui, come il caso della guarigione di un uomo che non poteva camminare. Ho mandato tutti fuori, fuori, tutto a casa, tutto a casa, sono tutti a casa e c'era un uomo seduto là, davanti alla porta, qua dentro, sulla panchina, tu vai qua e vai a casa, non mi posso muovere, ma adesso devi cambiare, vai a terra a casa, quindi se andrò se ne vanno. Padre Matteo era un uomo semplice, amava stare in mezzo alla gente e metteva chiunque a proprio agio e quando andava a dare la benedizione usava al posto del tipico aspersorio dei preti un semplice spruzzino come si vede in queste singolari immagini. Sembra che ognuna delle persone che ha conosciuto Padre Matteo abbia una storia particolare da raccontare su di lui. Durante la Santa Messa, mentre Padre Matteo diceva Santo, 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 è successo un fatto incredibile, io non ho più visto Padre Matteo, io ho visto Gesù, non era più Padre Matteo ed era bellissimo. Alle spalle di Padre Matteo si è aperta una porta e c'erano i Santi, i Giusti e gli Angeli della Corte Celeste. Ma durante le messe celebrate da Padre Matteo si sarebbero manifestati anche altri fenomeni misteriosi. Siamo nella casa di Padre Matteo Lagrua, la casa accanto al convento nel quartiere La Noce e con noi c'è Pino che è stato uno dei suoi collaboratori più stretti. Pino questo cd che non è mai stato fatto ascoltare io credo in nessuna televisione fino oggi, era stato voluto da Padre Matteo Lagrua che aveva sentito nel suo cuore che durante quella messa c'era qualcosa di particolare e infatti si sente gli angeli cantare. Ecco, sentiamo la voce di Padre Matteo. Questo è il calice del mio sangue, sentite. Il nuovo ed eterna allianza versato per voi e per tutti in remissione di peccati. Ecco, comincia adesso. Ma questa è una cosa incredibile. E' un'orchestra. Dobbiamo abbassare perché è fortissimo. Durante questa manifestazione avvenivano le guarigioni. Ecco. Le liberazioni, le consolazioni. Chi suonava la chitarra non ha suonato più perché tutti erano ad occhi aperti, a bocca aperta e quindi tutti lo sentivano. Tutti l'hanno sentito. Molti prendono le distanze da queste presunte manifestazioni. Tuttavia queste registrazioni sono state fatte ascoltare a fisici dell'Università di Palermo che, analizzando le frequenze, hanno dichiarato che i suoni e le voci non risulterebbero provenire da strumenti e fonti sonore conosciute. Quindi si tratterebbe, a loro avviso, di un fenomeno inspiegabile. Dio suscita l'attenzione attraverso il miracolo perché ci si ricordi che c'è un cielo. Guai a noi però se facessimo dipendere il cammino faticoso del nostro essere cristiani non solo dalla ricerca di questi segni ma addirittura valutassimo che se questi segni non ci sono la nostra fede non è viva, la nostra fede non è di qualità. Si celebrano i funerali di Padre Lagrua. Tutta Palermo si stringe intorno a quest'uomo che per tutta la vita ha aiutato gli ultimi, i poveri e gli ammalati, non solo attraverso i carismi di guarigione che aveva, ma anche con la sua umiltà e la sua paternità profonda. Siamo in Corso Vittorio Emanuele nel cuore di Palermo, questa è la cattedrale, fra poco meno di un quarto d'ora inizierà la Santa Messa, l'ultimo addio a Padre Matteo Lagrua, uno dei più grandi sacerdoti carismatici di questo inizio secolo del Novecento. Andiamo a rendere omaggio a quest'uomo servo di Dio che ha fatto tanto bene e le sue preghiere potenti, hanno aiutato tante persone, vedete una folla incredibile si sta assiepando dentro la cattedrale di Palermo, seguitemi. Oggi la nostra famiglia ecclesiale piange un padre speciale, unico. Qui dinanzi a noi giace un santo, che la storia venererà come un santo. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 sulle tradizioni, le devozioni, ma non una fede che entra in contatto con il Divino. E invece è così, perché il più grande miracolo che avviene ogni giorno su tutti gli altari del mondo è l'Eucaristia. Avviene in un modo così semplice, ordinario, eppure racchiude una realtà straordinaria divina, che è la stessa presenza di Cristo. E intorno a Gesù, Signore, realmente presente in corpo, sangue, anime e divinità, nel suo santissimo corpo e sangue, nel sacramento dell'Eucaristia, c'è sempre una corte celeste, la Beata Vergine Maria, San Michele Arcangelo, gli angeli, i santi, i martiri e anche le sante anime del Purgatorio. E ogni tanto queste presenze si fanno sentire, si fanno vedere, perché ci sono. Ecco, invece alcuni vorrebbero mettere da parte queste manifestazioni straordinarie. Queste manifestazioni fanno parte della nostra storia. Non possiamo toglierle, perché altrimenti sminuiremmo totalmente il mistero di Dio. D'altronde lo stesso Gesù ha operato con miracoli e prodigi straordinari durante la sua vita. Dunque queste manifestazioni appartengono di diritto, in modo, oserei dire, normale, al cristianesimo cattolico. Tant'è che queste manifestazioni, in modo così straordinario, sovrabbondante, ci sono soltanto nella Chiesa Cattolica. Nelle altre confessioni religiose ci sono. In qualche religione diversa c'è qualche manifestazione del Divino, ma in così abbondanza, in così sovrabbondanza, soltanto nella Chiesa Cattolica. Perché la Chiesa è il corpo mistico di Cristo, la Chiesa è stata voluta da Gesù, Gesù vive nella Chiesa e Gesù si manifesta, così come si manifestano anche gli angeli, i santi, la Beata Vergina Maria, e alcune volte anche le anime del Purgatorio. Bene, allora andiamo a continuare a leggere il nostro testo Contro Satana di padre Matteo Lagrua. E questa sera c'è proprio un capitoletto che riguarda direttamente Satana, cioè le lusinghe di Satana. Intanto vi chiedo di condividere questa diretta su tutte le vostre pagine Facebook, perché sono veramente delle belle catechesi. Voi vedete che io riesco a commentare poco quello che dice padre Matteo, perché veramente è chiarissimo e non c'è bisogno di fare grandi commenti. Lui spiega già benissimo quello che vuole dire. Quindi io mi limito a leggere, a fare qualche piccolo commento qua e là. Mentre in altri testi riuscivo a dilungarmi di più per spiegare le cose. Invece padre Matteo è talmente esempio, talmente chiaro negli eventi che racconta, perché sono eventi concreti, pratici, che non c'è bisogno di grandi spiegazioni. Allora leggiamo il testo. Siamo a pagina 79, le lusinghe di Satana. Dice l'intervistatrice, Padre Matteo, più volte ha fin qui parlato della sua attività di esorcista, ma non mi ha ancora raccontato come ha avuto inizio questa sua particolare missione, al servizio di Cristo nella lotta contro le potenze delle tenebre. Conosco bene le lusinghe di Satana, dice padre Matteo, e la sua capacità di sedurre anche le anime più nobili, offrendo fama, gloria e potere. Ma non è certo questa è la ragione che mi ha spinto a diventare esorcista. Semplicemente cominciai a sentire in me la vocazione a questo particolare ministero, avvertendo cioè come una chiamata interiore a impegnarmi in questa battaglia contro il maligno, che ha impegnato gran parte delle mie energie fisiche e spirituali per lunghi anni della mia vita. In seguito, il Vescovo mi ha nominato ufficialmente esorcista della Diocesi, e così ho cominciato a esercitare la pratica esorcistica, associandovi a entrambi i doni di cui il Signore mi aveva colmato, la liberazione e la guarigione. Dunque, padre Matteo esercitava già, diciamo, questo ministero della liberazione attraverso le preghiere. Poi il Vescovo, vedendo che aveva questo carisma, questo dono di liberare attraverso le preghiere, lo ha in qualche modo istituzionalizzato, dandogli il ministero di esorcista, e allora poi la sua attività è diventata ancora più ampia, più forte contro il maligno, e tante più persone hanno potuto sfruire di questo dono di padre Matteo, e così essere liberate da Satana e dagli altri spiriti maligni. Questa è una cosa importante da capire. Nella Chiesa bisogna fare discernimento, cioè bisogna discernere quali sono i carismi, i doni che lo Spirito Santo suscita sia nei Sacri Ministri, sia nel popolo di Dio, e valorizzarli. Se invece questi doni, questi carismi, non fossero valorizzati, ci sarebbe una responsabilità anche davanti a Dio, perché se Dio suscita un carisma, vuole che sia messo a servizio, non per la gloria della persona che lo esercita, in questo caso, diciamo, padre Matteo, il quale sapeva bene sfuggire alle lusinghe di Satana, ma per il bene del popolo di Dio, del corpo mistico di Cristo. Ormai però, tutti i carismi sono cessati, dice padre Matteo, a circa 97 anni. Non c'è più nulla di straordinario in me, capite? I carismi Dio li aveva dati a padre Matteo per edificare il suo corpo mistico. Ormai che si appresta a lasciare questo mondo, Dio gli ha tolti i carismi, perché ormai deve conformarsi completamente a Cristo crocifisso. Ed ecco che il padre Matteo specifica questa conformazione. Devo patire e spiare, mi restano solamente la sofferenza, «La malattia, la croce». Non riesco neppure a trovare le parole per spiegare quello che provavo dopo aver concluso un esorcismo, come un senso di pianezza, di gioia, pur nella fatica e nella drammaticità dei frequenti testa a testa col demonio, ma ero confortato dal considerare la pratica esorcistica una vera e propria missione. Quando svolgevo questa attività era come una lunga passeggiata che cominciava fin dalle prime ore del mattino, fronteggiando il diavolo per ore, senza stancarmi. Anche tre, quattro ore di fila, finché il demone lasciava il corpo del malcapitatum. Il diavolo mi parlava in tutte le lingue. Una volta, durante un esorcismo, si presentò lo spirito di un anziano indiano della tribù Apache, ovviamente esprimendosi nell'idioma degli indiani del Nord America. Quel povero uomo era posseduto dal diavolo. Alla fine, dopo molti esorcismi, la vittima si liberò dal suo nemico. Si può condurre un'esistenza apparentemente normale, senza sapere di essere posseduti dal demonio. Ecco, capite, questo è importante. Cioè, alcune persone sono possedute dal demonio e non se ne rendono conto di avere nel proprio corpo un ospite, o forse più di un ospite, come ad esempio Francesco Vajasuso, che aveva appunto 27 legioni di demoni, migliaia e migliaia di demoni, perché da bambino era stato consacrato a Satana con un patto di sangue, eppure lui non si rendeva conto di queste presenze. Però aveva delle sofferenze fisiche che erano come la punta dell'iceberg, delle sofferenze che lui avrebbe poi dovuto patire in futuro a caso della presenza dei demoni. E' possibile, cioè, convivere inconsapevolmente, dice Padre Matteo, con il diavolo. Ma è comunque una vita d'inferno, perché il diavolo turberà l'esistenza del malcapitato dalla mattina alla sera, con l'intento non tanto di portare il poveretto alla malattia e alla eventuale morte fisica, quanto piuttosto alla dannazione eterna, cioè a vivere nel peccato, a nutrire sentimenti di rancore e di odio nei confronti di Dio. A Satana, infatti, interessa, in ultima analisi, strappare un'anima a Dio e non vuole impadronirsi del corpo se non per condurre a questa morte spirituale, che è ben più grave di quella fisica, come ricorda anche Gesù. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo ma non hanno potere di uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che ha il potere di far perire e l'anima e il corpo nella genna. Matteo, capitolo 10, versetto 28. Comunque, continua padre Matteo, il 90% dei casi di persone che si sono rivolte a me cercando un esorcista, alla fine si sono rivelati essere di natura non diabolica bensì naturale, cioè legati a quelle forme di psicopatologia cui ho già fatto riferimento. Ecco, capite? Andavano tantissime, migliaia e migliaia di persone da lui, però il 90% di queste persone non avevano disturbi di origine diabolica bensì patologie psicologiche. Ma come si fa a discernere se si adinanzi a un reale fenomeno diabolico? Per operare questa valutazione occorre il colloquio con il diavolo. Finché non si crea questo particolare rapporto, non è possibile stabilire in maniera certa che siamo in presenza di Satana. Dunque, l'esorcista deve fare l'esorcismo e chiedere a Satana con varie domande fino a stanarlo e a far capire e a poter capire finalmente che quella persona è veramente posseduta dal diavolo. Se non c'è questo dialogo con l'entità che è dentro la persona è difficile, dice Padre Matteo, riuscire a stabilire se quella persona è veramente posseduta. Insomma, continua, non credo a priori nella possessione demoniaca ma vado alla ricerca attenta e scrupolosa di quelle prove che attraverso la celebrazione del rituale sorcistico permettono di formarsi una certezza in merito. I lunghissimi anni di attività mi sono scontrato rare volte con veri casi di possessione. Non mi è possibile stabilire un numero preciso ma di certo saranno un centinaio o poco più. I veri sorcisti sono merce rarissima lo affermo senza esitare. Quindi attenzione a questa frase che ha detto Padre Matteo I veri esorcisti sono merce rarissima lo affermo senza esitare. Questi sacerdoti sono pochi per ogni liberazione devono affrontare fatiche fisiche e sofferenze spirituali. Io stesso pago un conto altissimo per la liberazione delle vittime dal maligno. Ecco capite? Perché purtroppo tante volte si va dall'esorcista ma non ci sono esorcisti veramente esperti perché tante volte purtroppo i vescovi incarichano dei sacerdoti che non hanno esperienza del preternaturale cioè dei demoni e incarichano dei sacerdoti magari che sono anche bravi sacerdoti ma che non avendo questa esperienza questa vocazione questa vera e propria chiamata da parte di Dio non riescono poi a fare un discernimento serio sui casi di possessione o sui casi di patologia psicologica e allora confondono tant'è che anch'io ho visto qualche cosa del genere mi è capitato ecco allora bisogna fare attenzione anche a trovare se la persona ha veramente una possessione diabolica l'esorcista giusto altrimenti non si libererà mai per liberare i reali indemoniati continua padre matteo potrebbero dunque bastare gli esorcisti che già sono attivi al presente se facessero però quello che sono chiamati a fare cioè gli esorcismi alla mia veneranda età quello che più mi fa soffrire non sono gli acciacchi della vecchiaia bensì il fatto di sapere che non tutti gli esorcisti nominati ufficialmente dai rispettivi vescovi esercitano l'attività per la quale hanno ricevuto un regolare mandato ecco quindi padre matteo è molto chiaro non appelli sulla lingua come si so dire è franco la parresia che viene dallo spirito santo perché questa mancata attività perché chi fa l'esorcista paga un prezzo con la propria vita per ogni liberazione o guarigione ottenuta capite cioè è un prezzo caro quello che l'esorcista deve pagare perché poi il demonio se la prenderà con lui e lo farà soffrire mi viene in mente un racconto di adesso di un noto esorcista messinese padre tomaselli che veniva vessato dal maligno e lui racconta che un demonio credo asmodeo se non vado errato una volta gli ha ficcato nella testa un coltello e gliel'ha fatto uccidere dall'altra parte e lui ha avvissuto proprio questa esperienza di sentirsi trafiggere con il coltello alla testa e andava notte a disturbarlo quindi non è facile fare gli esorcisti tant'è che padre tomaselli voleva lasciare il ministero dell'esorcistato ma il vesco invece per obbedienza gli fece continuare perché era veramente un santo sacerdote messinese ecco allora quindi l'esorcista paga un prezzo caro per ogni liberazione che fa io non ho pace né giorno né notte dice padre matteo ecco io non ho pace né giorno né notte il demonio gli faceva i chiodi di giorno e di notte è una lotta continua contro il male l'esorcismo costa invece tanti esorcisti hanno una preghiera molto debole fanno gli esorcismi magari però senza intensità spirituale quindi liberano poco e il vero esorcista sa perfettamente che è costretto a pagare un prezzo altissimo per il proprio ministero per questo molti non fanno dei veri esorcismi altrimenti dopo starebbero male anzi malissimo potrebbero andare incontro a seri rischi fino ad ammalarsi gravemente o a mettere in pericolo la propria vita ecco questa è una cosa molto seria da capire chi si scontra con satana non è una passeggiata dice ma gesù è più forte sì gesù è più forte ma tra gesù e il demonio ci sei tu e se tu sei veramente forti spiritualmente riesci a tenere testa a satana e anche a schiacciare la testa di satana ma se tu non sei forte spiritualmente il demonio ti potrebbe perfino far ammalare fisica e psicologicamente e fisicamente e ti potrebbe anche far morire tant'è che padre Gabriele Amort in uno degli ultimi libri che ha scritto l'ultimo esorcista racconta come il demonio ha minacciato di morte tutti quelli che hanno partecipato all'esorcismo e poi purtroppo molti di essi li ha fatti morire quindi non si scherza e racconta anche da un altro esorcista che mentre esorcizzava è riuscito a far uscire il demonio dall'esorcizzato ma il demonio è entrato dentro di lui per un istante gli ha rovinato tutti gli organi interni poi è uscito e quel povero esorcista si è ammalato gravemente di un sacco di malattia e alla fine è morto quindi non è una cosa facile trovare dei bravi esorcisti perché è un ministero molto sacrificato ed è un ministero che mette a rischio la salute psicologica e fisica la vita e anche un sacco di problemi che il demonio ti crea tutto intorno quindi bisogna veramente andare in cerca come una perla preziosa quando si incontra un vero esorcista un esorcista che ama le anime e che prega per le anime e che si scontra con Satana per amore delle anime per liberare i corpi come ho fatto io a salvarmi e a non soccombere dice padre Matteo beh ho rinunciato a tutto nella vita si devono fare delle scelte e io ho scelto di compiere il mio dovere di esorcista sacrificando me stesso non ho curato la mia salute e non mi sono mai messo al primo posto ma la prima regola inderogabile per ogni esorcista è la castità ecco questa è una cosa importantissimo il sacerdote che non vive la purezza la castità del cuore prima e del corpo dopo non può sicuramente combattere lo spirito impuro non può combattere Satana Satana gli riderebbe in faccia purtroppo in questo clima di impurità che stiamo vivendo vediamo nella cronaca quotidiana quanti scandali ci sono tra i sacerdoti perché purtroppo magari non c'è neanche un buon discernimento riguardo la vocazione sacerdotale e se non si ha questa forte vocazione e questo amore verso il ministero sacerdotale si può cadere nell'impurità e in impurità gravissime come quelle che purtroppo leggiamo quando invece c'è l'amore alla propria vocazione e poi al ministero sicuramente si è in grado di fare qualunque sacrificio anche perché poi come dice la scrittura Dio ha promesso riempirò il cuore dei sacerdoti di delizie cioè se si rinuncia ai piaceri fisici ai piaceri della carne il Signore riempie il cuore di delizie spirituali che colmano la persona veramente di beatitudine in alcuni momenti che fanno sì che non ci sia nessun rammarico per aver rinunciato ai piaceri del mondo anzi i piaceri spirituali superano infinitamente quelli che possono essere i piacere della carne i piacere del mondo quando combattiamo col diavolo continua padre Matteo dobbiamo stare seduti in Cristo per fare gli esorcismi ci vuole la castità assoluta in questo modo Satana sarà meno feroce o comunque la sua azione diabolica meno efficace anche perché chi vive la castità e la purezza del cuore vive in qualche modo una dimensione che tenta di avvicinarsi a quella angelica e noi sappiamo quanto sono forti gli angeli contro il demonio e chi è chiamato a combatterlo sarà autorevole caparbio e irremovibile e saprà trovare una fonte di autorevolezza e fermezza ecco come mi è stato possibile essere sempre una roccia affrontando la tempesta del maligno quindi capite la purezza è fondamentale non è una virtù secondaria purtroppo ho sentito anche qualche pastore quasi sminuire la virtù della purezza in questo modo si indeboliscono molto i sacerdoti i sacerdoti devono vivere nella castità devono vivere nella purezza del cuore e chiaramente Satana getterà addosso ai sacerdoti che vedono la purezza un sacco di calunnie un sacco di diffamazioni poiché non riuscendo a conquistare il sacerdote attraverso l'impurità poi tenterà di creare intorno a lui una corona di spine fatta di calunnie di infamie di diffamazioni ecco per tentare di distruggere appunto la buona fama di quel sacerdote e così far perdere la stima da parte dei fedeli e lui poter continuare indisturbato a distruggere il popolo di Dio ma Dio che è vindice di ogni giustizia non permette che queste cose possano continuare a lungo poiché come dice San Giovanni Paolo II alla fine la divina misericordia pone un limite al male e la luce vince sempre le tenebre ancora oggi sono come un bunker di fronte agli attacchi del nemico capite? ecco per via di questa straordinaria virtù che è la purezza del cuore e del corpo attacchi che sono pericolosissimi perché il diavolo è subdolo ingegnoso e scaltro per spiegare questo aspetto dell'attività demoniaca racconterò un esorcismo che mi aveva particolarmente divertito forse potrà sembrare strano che usi questa espressione ma riuscivo sempre a sdrammatizzare a non prendere tutto troppo sul serio la realtà si può guardare con lenti colorate magari anche in una giornata nuvolosa proprio come quel giorno quando non riuscivo a concludere un esorcismo interminabile gli spiriti maligni non volevano assolutamente lasciare la preda indifesa dopo ore che mi dibattevo per allontanare la legione di diavoli da quella vittima seguendo il rituale esorcistico e intimando nel nome di Gesù Cristo a quei demoni di andarsene a un certo punto dissi in modo autoritario voi di qua dovete andarvene altrimenti starò qui anche fino a domani se non ve ne andate via svelti svelti a quel punto i diavoli mi risposero ghignando beffardamente ah ah fino a domani ma se il cardinale ti aspetta in curia ed era proprio vero avevo realmente un appuntamento con il cardinale pappalardo che già mi stava aspettando chissà come avevano fatto a saperlo allora rivolgendomi ai diavoli replicai bene ricominceremo domani ma ora smettetela non tormentate più questa creatura obbedite e tacete poi mi levai la stola e la mise sulla testa dell'esorcizzato spruzzai quindi acqua benedetta in tutta la stanza a quel punto la legione dei diavoli iniziò a bestemmiare a orlare parolacce a scalciare a emanare odori nauseabondi fecero contorcere e ruzzolare a terra la povera vittima che alla fine di questo estenuante combattimento si liberò con un lungo respiro i diavoli si dileguarono loro non sopportavano il mio canto in lingue infatti dicevano come fare lamento fai puzza ecco quindi il canto in lingue di padre matteo per i diavoli era puzza da quel momento in quel giovane albergò al posto dei demoni lo spirito santo amen alleluia ecco vedete come è possibile vincere satana quando si ha fede e quando si lavora veramente con spirito di carità e quando si è puri nel cuore e nel corpo si vince il maligno continua padre matteo si soffre sempre dopo un esorcismo non conta l'età anche i giovani sacerdoti potrebbero incontrare seri pericoli però la vera sofferenza è quella che vivo ora mi rendo conto che le mie forze svaniscono le mie ferite rimangono aperte il patimento è enorme chiaramente qui padre matteo non sta parlando di ferite fisiche ma di ferite psicologiche così come anche diceva padre amort che un posseduto un ragazzo che era posseduto da uno spirito muto che non parlava ogni volta che lo guardava con quello sguardo di odio negli occhi lo feriva psicologicamente gli lasciava delle ferite così padre matteo ogni volta che combatteva col demonio il demonio gli lasciava delle ferite voi pensate un esorcista che deve sentire bestemmie volgarità di ogni cosa poi il racconto di ogni tipo di peccato gli sputi gli insulti da parte del posseduto che chiaramente provengono dal maligno insomma a livello psicologico che forze deve avere se è debole non riesce a lottare con il diavolo però le ferite anche se uno è forte ci sono lo stesso così come dice padre matteo vorrei dare molto a tutti gli ammalati che bustano alla mia porta invece sento che la mia volontà è imprigionata in un corpo malato ormai senza energie beh aveva 97 anni quindi giustamente ormai era consumato finché esercitavo il ministero del esorcista ero inattancabile di fronte all'assedio del diavolo satana può combattere instancabilmente ma non può trionfare certo potrebbe accadere che il diavolo sembri sopraffare l'esorcista ma non bisogna lasciarsi prendere prendere dallo sconforto pregando con perseveranza il diavolo cede si prende la sua coda e fugge via quindi non arrendersi mai alla temporanea prevalenza demoniaca la vittoria è sempre di Cristo nel caso in cui il diavolo sia radicato nella vittima bisogna fare molti esorcismi perché arrecheranno senza dubbio un enorme beneficio l'esorcismo reiterato migliora sempre gradualmente la situazione fisica psichica e spirituale della persona nella mia lunga attività numerosissimi sono stati i casi di liberazioni ottenute con esorcismi ripetute a volte nel corso di anni un'attività veramente stancante dunque ma la madonna è sempre stata al mio fianco durante gli attacchi del demonio io sono profondamente devoto alla regina della pace di Meggiugorie ecco vedete era profondamente devoto alla regina della pace di Meggiugorie noi abbiamo questa bella pagina che ha superato ormai le 400.000 persone che hanno messo mi piace e dunque sono anni che lavoriamo a questa pagina e che divulghiamo la venerazione della beata vergine maria con il titolo di regina della pace di Meggiugorie padre matteo dall'inizio è stato un devoto della regina della pace e so che non bisogna mai staccarsi dalla madonna lei è sempre vigile nel combattimento contro satana così posso dire che solamente una è la donna presente nella mia vita la donna che al buon dio fece perdere la testa al punto che di ogni dono l'ha arricchita tutto il mondo resta a bocca aperta alla presenza della vergine maria ecco la beata vergine maria come abbiamo visto giorno 8 ha un singolare privilegio cioè il privilegio di essere l'immacolata concezione di essere la sempre vergine maria di essere la senza macchia e senza ruga non soltanto senza peccato originale ma anche senza il benché minimo peccato attuale cioè la beata vergine maria la mamma nostra celeste non ha mai compiuto neanche il più piccolo peccato veniale è stata tutta pura tutta santa anzi ogni giorno è cresciuta di grazia in grazia di gloria in gloria per la presenza di pienezza di spirito santo che era nel suo cuore nella sua anima nel suo corpo e quindi per il sacerdote e in particolare per l'esorcista la madonna è un punto di riferimento imprescindibile guarda continua padre matteo posso liberarti che la madonna è persino venuta a trovarmi non è stata un'apparizione però la madonna è venuta a visitarmi al centro di Gesù liberatore dove ci raduniamo con il gruppo carismatico di preghiera aveva in braccio il bambino non era una donna comune simile alle altre ma aveva molta dignità avevo capito che doveva comprare il latte per il piccolo così le misi nella mano 20.000 lire e l'accettò quella piccola somma di denaro ecco capite quindi non ha avuto un'apparizione proprio la madonna si è presentata con un bambino in braccio e ha accettato l'elemosina di padre matteo ecco che meraviglia no? padre matteo dunque era un mistico come la nostra natuzza Evolo oppure come padre Pio che vedeva i santi gli animi del purgatorio la madonna gli angeli Gesù ancora non sapevo chi fosse realmente la madonna è apparsa in questa donna ne ebbi presto la certezza interiore in questo modo la regina della pace è venuta a trovarmi una persona di profonda preghiera mi rivelò poi in seguito è venuta la madonna le ha fatto visita e quella fu la conferma che non mi ero sbagliato tant'è che anche Santa Faustina Kowalska racconta nel suo diario che Gesù un giorno si è presentato alla porta del convento poiché lei era la portinaia in quel periodo Gesù è andato dunque sotto le sembianze di un povero tutto stracciato ed emaciato e lei le ha fatto l'enemosina di una scodella di cibo ecco non è raro nella vita dei santi che il Signore o la Madonna si presentino in questo modo proprio per provare la carità di quella persona per farlo crescere in grazia e in carità molte di più ahimè sono state le visite e gli incontri con il diavolo dice padre Matteo il demonio mi conosce mi saluta e mi parla però non mi ha mai procurato grandi sofferenze né ha disturbato le mie notti come invece accaduto per tanti anni a padre Pio io ho sempre dormito beatamente ah bene quindi prima diceva che non aveva pace nel giorno né notte invece qui sta dicendo che la notte ha sempre dormito beatamente non lo disturbava il demonio quindi aveva magari altri angusti nel cuore le persone possedute dal diavolo che casualmente incontro per strada mi salutano anche se non le conosco sono persone che non ho visto prima quindi capite perché non è la persona che saluta padre Matteo ma è il demonio che è dentro quella persona che saluta padre Matteo anche se non si sono mai incontrati prima il diavolo ordina le sue vittime di salutarmi ma loro non sanno neppure chi sono ricordo in particolare di una volta in cui mi trovava un convegno il mio intervento era previsto nel pomeriggio ma all'improvviso fu anticipato di qualche ora mentre parlavo si sentì una voce squillante sollevarsi dal pubblico oh Matteo tu qua sei al che io replicai senza scompormi e anche tu se qua sei arrivederci e quello mi disse arrabbiato arrivederci era il diavolo avete capito è andato a fare un convegno e dalla platea un uomo lo saluta ma non era quell'uomo era il diavolo che lo salutava e lui senza scomporsi perché aveva capito benissimo chi era colui che stava parlando gli dice pure tu sei qua arrivederci lui voleva farmi sapere che era presente fra quelle persone che partecipavano al convegno ma che non avrebbe disturbato perché Dio non glielo avrebbe permesso moltissime volte mi sono imbattuto nel diavolo fortuitamente come quel caldo pomeriggio estivo mentre stava attraversando una piazza di Palermo ecco ascoltate questo episodio cioè li vedeva proprio come delle persone i demoni le strade erano deserte in lontananza mi parve di vedere un insolito gruppo di uomini appena mi ritrovai vicino a loro uno del gruppo mi indico oh guarda u capitano c'è lo traduco in italiano oh guarda il capitano c'è io risposi arrivederci per congedarli immediatamente e quelli senza esitare arrivederci insomma avevo incontrato un gruppo di diavoli a passeggio in un caldissimo pomeriggio di agosto capite? cioè diavolo gli appariva e non uno più di uno satana mi riconosce ovunque nel deserto del sahara al polo nord o nel centro storico di Palermo una volta un fratello del gruppo voleva sostituirmi durante la preghiera di liberazione ma il diavolo scoprì il tranello e disse matteo lo conosco ma tu chi sei? battene immediatamente non sei tu matteo quando il maligno si impossessa della nostra esistenza conosce ogni anfratto della vita capite? perché satana si studia bene la persona in modo da poterla distruggere da poterla tentare sedurre da poterla colpire nei suoi aspetti psicologici e fisici e relazionali familiari e sociali dunque col demonio si scherza poco chi pensa che sia fare una passeggiata combattere satana ha sbagliato di grosso e non è sicuramente una persona in grado di poter fare né preghiere di guarigione e liberazione né assolutamente l'esorcista a questo proposito vorrei lanciare un grido d'allarme a coloro che vengono adescati convogliati nelle sette purtroppo il fenomeno delle sette piccoli gruppi di otto dieci persone si sta allargando a macchia d'olio ecco persino le sette sataniche stanno crescendo a dismisura dove non c'è Dio lì si incune a satana agli adepti delle sette vorrei dunque dire una vostra profonda conversione può anche apparire difficilmente realizzabile però la vostra liberazione non è un'utopia basterebbe che il vostro cuore si aprisse al grande amore di Dio indubbiamente continua padre Matteo chi decide di abbandonare la setta vivrà per il resto dei suoi giorni nel pericolo nella paura si guarderà sempre alle spalle perché il suo carnefice potrebbe giungere senza preavviso e coglierlo di sorpresa purtroppo nella mia esperienza di esorcista ho appurato che chi si vende a satana raramente potrà tornare indietro capite? chi si vende a satana raramente potrà tornare indietro però qualche caso c'è se ricordate ho fatto tre dirette se non erro su Halloween dove abbiamo visto il video e abbiamo commentato anche il racconto di due satanisti un uomo e una donna che ci hanno parlato come sono riusciti a scappare dalla setta e hanno fatto proprio delle cose orribili ecco qualche volta si riesce a scappare però chi si consegna a satana dice padre Matteo raramente poi riesce ad uscire quella è una strada nella maggioranza dei casi senza ritorno perché non è soltanto una strada nel male in questo mondo ma è veramente la strada che conduce all'inferno che Dio scansi e liberi queste persone queste anime che si sono date al maligno voi pensate che ho letto un articolo proprio ieri dice il Seac Clinton la figlia di Hillary Clinton e di Bill Clinton la quale osannava le sette sataniche anche perché voi sapete che Hillary Clinton ha avuto come maestro un vero e proprio satanista e faceva delle cose abominevole e sataniche anche l'altro presidente quello che è venuto dopo di lei e che era insieme con lei cioè Barack Obama aveva come maestro un satanista e dunque tutte e due erano della stessa risma si mostrano al mondo con una bella faccia un bel volto ma in realtà il loro cuore è di satana e infatti sia Hillary Clinton che Barack Obama hanno fatto cose abominevoli hanno fatto guerre massacranti hanno diffuso l'aborto in tutto il mondo hanno tolto i fondi alle organizzazioni di carità e a tantissime altre cose abominevoli speriamo che si possano salvare l'anima dunque continua Padre Matteo quelli che decidono di non invocare più il maligno saranno perseguitati dai seguaci della setta proprio questa è la vera minaccia che incombe su di loro eppure vorrei dire a ognuno di questi individui persi nei meandri del satanismo ricordatevi che il diavolo può combattere ma non può vincere perché Gesù aggiungo io è l'unico vero vincitore di satana del peccato e del mondo Amen bene carissimi possiamo concludere questa diretta abbiamo fatto quasi un'ora quasi 54 minuti di diretta adesso faremo un momento di preghiera chiederemo anche l'aiuto potente di Padre Matteo e poi ci risentiamo domani alle 15 per la coroncina della divina misericordia Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi le rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre e nei secoli dei secoli Amen Angelo di Dio che sei il mio custode illumina custodisci reggi e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste Amen l'eterno riposo donadoro Signore esplenda ad essi la luce perpetua riposino in pace Amen O glorioso San Michele Arcangelo Principe delle milizie celesti difendici nella lotta sii il nostro aiuto contro le insidie e le malvagità del demonio il Dio lo domini supplichevoli te lo chiediamo e tu col divin potere incadene nell'inferno satane e gli altri spiriti maligni che vanno vagando per il mondo a perdizione delle anime Amen nostri santi protettori pregate per noi Il Signore sia con voi Vi benedica Dio Onnipotente Vi libera ogni male maleficio maledizione sortileggio incantesimo fattura legatura stregoneria invidia gelosia odio rancore malocchio ogni forma di male occulto dalle conseguenze delle messe nere Vi dia pace serenità salute prosperità comunione fedeltà coniugale fecondità di vita Vi faccia crescere nella fede nella speranza nella carità e in ogni virtù Vi faccia aggiungere la gioia eterna nel paradiso insieme con tutti i vostri cari Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Benediciamo il Signore Rendiamo grazie a Dio Estendo la benedizione anche coloro che l'ascolteranno in seguito Grazie a tutti Grazie a tutti